Benvenuti a una nuova edizione del TG Epic Camp 2015, secondo giorno, anche se a dire il vero sarebbe il primo perché siamo partiti stamattina, facciamo un selfie in diretta. Siamo partiti ieri, però in realtà siamo partiti stamattina a lavorare anche la mattina sui campi. Quindi niente, siamo qui a raccontarvi questa seconda o prima giornata, vedete voi come interpretarla, dove c'è stata la sveglia con la colazione e l'attivazione motoria sui nostri campi. I ragazzi hanno dovuto mettere su una bella felpa perché stamattina tirava l'aria delle grandi occasioni. Una bella felpa. E' andata a cambiarsi. Assolutamente, noi vogliamo solo gente bella e siamo gente bella. Quindi niente, poi c'è stata un punto d'attività sui campi, di attivazione motoria, stretching, qualche lavoro più che altro sul passaggio oggi, qualche indicazione tecnico-tattica sul passaggio. E' andata a cambiarsi. E' andata a cambiarsi. Grazie a tutti. Ma un gruppo di... Un gruppo, che gruppo? Il nostro È andato, ha deciso di... Cioè ha deciso, gli hanno imposto Di andare a provare il tiro con l'arco È stata un'esperienza Secondo me molto interessante Molto formativa Non so, dici due parole Bassani Bassani cosa? Ma sì, diciamo che Se Robin Hood fosse vissuto I giorni nostri Avrebbe sfigurato Abbiamo fatto tiro con l'arco Prestazioni maestose Esagerate Perfette oserei dire Ma è stato molto divertente Perché abbiamo imparato qualcosa di nuovo Ringraziamo Finetti Che ci ha istruito a dovere E insomma prendiamo spunto Per i prossimi camp Perché insomma il primo gruppo Si è davvero divertito E non sarà l'unico Perché insomma Adesso pian piano Tutti gli altri Andranno a provare Questa attività Diciamo che oggi era un po' Il primo giorno Quindi L'organizzazione andava un po' oliata Un po' come i meccanismi offensivi Della squadra di Serie C Che si sta allenando In questo momento 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 Poi c'è stato il pranzo Il pranzo del Luculliano Solito pranzo luculliano Al quale siamo abituati E successivamente Nel pomeriggio Poi sono andati avanti I tornei I tornei Soliti Come quelli di ieri Con il torneo Ci sono stati ancora Ci sono stati Buon agonismo E c'è stata anche La prima finale Del torneo 3 contro 3 Che praticamente Tutti i giorni Ci saranno comunque Dei vincitori Dei vinti Questo darà anche un po' più Spumeggiante Quello che è il nostro torneo Il pranzo lucullo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Stasera ci sarà un gioco speciale, basso vorrei dirgli due parole su questo gioco speciale, forse, basta che però non ci sentano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. Cavaliere si nasce o si diventa? Questo è il grande quesito. Si diventa, si diventa, secondo me si diventa, si fa un percorso e poi si diventa. No ma era per ridarti il microfono, non per sapere se si diventa. Vabbè comunque alla fine ho ragione io, quindi si diventa cavalieri e basta, quindi vi inviteremo magari a scoprire, a sintonizzarvi domani sul nostro TG Camp in modo tale da scoprire che cosa ci sarà mai stato. Sì, ma guardate anche quello di oggi. E guardate quello di oggi appunto per scoprire anche quello che stasso ieri. Anche perché se non guardate quello di oggi non potete sapere di sintonizzarvi domani. E quindi, niente, diamo la linea allo studio. È da Roccia. Oh, lo cade! Ce l'ha salvati, mamma mia. È che non era una grande berita, però. Però da Roccia, sempre presenti in montagna e basso, è tutto. Hashtag sempre presenti. Vi salutiamo, il TG Camp finisce qui. 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 La. La. Le. Le. Li. Li. Hashtag tutti a Cassano. Hashtag Man in Green. Viva la Sanse. Ciao a tutti. Ciao. 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 Basta. Ciao. Ciao.